Il divieto di assembramento a Lecco non è una priorità, anzi si è dissolto nella notte del 18 luglio. Con queste parole Cinzia Bettega, capogruppo della Lega in Consiglio Comunale, commenta la scelta dell'amministrazione di organizzare una serie di iniziative per la Notte Bianca, che sabato sera ha richiamato in centro città numerose persone. Sono d'accordo con gli eventi turistici, culturali, ben organizzati, che prevedono in uno spazio determinato un numero di partecipanti regolarmente distanziato. Visto quello che è successo nella nostra regione, dove i dati purtroppo sono sempre stati i peggiori di tutta Italia per numero di contagiati e di vittime, ritengo che tutti i richiami alla prudenza, alla prevenzione, al distanziamento sociale andrebbero prima di tutti dalle istituzioni tenuti da conto, non organizzare manifestazioni che portano alla calca e al sovraffollamento. Infatti la Notte Bianca è l'unica, come ha affermato l'amministrazione, di tutta la Lombardia. Non mi sembra un gran primato, anzi direi che proprio non è stata una bella idea, senza per questo togliere nulla la valenza delle singole manifestazioni organizzate come si deve. Pur condividendo la voglia di ripartire, soprattutto degli operatori, e capisco che bisogna assolutamente dare il via delle iniziative che consentono a chi ha perso fatturato, perché è stato chiuso tre o quattro mesi, di recuperare, però il divieto di assembramento, quello che diciamo così viene vigilato anche sulle spiagge, perché sappiamo che anche lì fanno dei controlli, deve valere per tutti. La capogruppo ipotizza anche che possa trattarsi di una mossa fatta dal Partito Democratico in vista delle prossime elezioni comunali. È un po' un classico come si arriva sotto date di elezione, c'è tutto un movimento per far vedere che si è fa, che si è bravi, però quando c'è di mezzo una pandemia che nel mondo non è ancora sconfitta, io direi che la prudenza non deve essere tralasciata.